Si è conclusa questo pomeriggio la prima fase del torneo di calcio a 8 Città di Nuoro, una competizione inserita nel progetto Liberi nello Sport che vede impegnati anche i detenuti del calcio di Bado e Carros. Oggi in campo sono scese le due formazioni composte dai reclusi allenate da Gianni Caredu. Azzurra ha battuto col punteggio di 5 a 0 il Barça Vuntana, mentre la Fenice ha perso contro il foro di Nuoro per 5 a 1. I detenuti hanno utilizzato le maglie della Nazionale Italiana che sono state donate dalla FIGC per sottolineare la grande valenza dell'iniziativa promossa dall'ASD Olympiacos presieduta da Salvatore Rosa, in collaborazione con le ACLI e la direzione del calcere. Gianni Caredu, allenatore delle squadre La Fenice e Azzurra, le due formazioni di detenuti che stanno prendendo parte al torneo Liberi nello Sport. Un'esperienza nuova anche per lei? Racconti un po'. Sì, non si può dire che sia un'esperienza come tutte le altre, perché da subito, dal primo giorno che sono arrivato in carcere, dal primo giorno che ho passato le mura, ho parlato subito con i ragazzi, anticipandogli già che non era un'esperienza come tutte le altre da allenatore. Loro erano già consapevoli di questa situazione, infatti devo ringraziare tutti i ragazzi perché mi hanno accolto con serietà, con entusiasmo e mi hanno permesso di mettermi a mio agio con tutti e di lavorare molto tranquillamente. Umanamente, certo, inizialmente avevo anche io questa sorta di pensiero, di apprensione, per cui non stavo andando ad allenare una squadra, chiamiamola normale, fra virgolette. Però, superato il primo periodo, i primi dieci minuti, il primo incontro con i ragazzi, da subito ci siamo trovati benissimo. C'è da dire che proprio grazie a loro, ripeto, grazie a loro, al loro entusiasmo, alla loro voglia attraverso lo sport, non dico di riconciliarsi, ma di vivere un'oretta di socialità insieme a persone che arrivavano da fuori, tutto sta andando per il meglio. Sotto il profilo tecnico, due parole? Dal punto di vista tecnico, calcistico, sono più che contento, più che entusiasta di tutti i ragazzi, perché abbiamo le due squadre, sono due gruppi abbastanza eterogeni, perché ci sono ragazzi meno giovani, alcuni molto giovani, per cui mettere insieme la squadra non è stato facile, però sono molto contento dei risultati e mi sto divertendo. Si stanno divertendo loro e mi sto divertendo tanto anch'io, perché abbiamo, nonostante le difficoltà di tipo logistico, strutturale, che ovvio all'interno di un carcere si possono incontrare, tutte queste difficoltà le abbiamo superate proprio con la voglia dei ragazzi, la voglia di mettersi in gioco, di dimostrare a se stessi, ma anche a me come allenatore, che vengo ormai riconosciuto proprio come tale, come il mister, che riescono a fare squadre, riescono anche a costruire del bel gioco. Quindi non solo giocare a pallone, come a volte gli dico io, ma molto spesso anche a fare del buon calcio. E questo ci ha garantito degli ottimi risultati, almeno fino a questa prima fase.